La popolarissima serie turca Endless Love continua a tenere il pubblico col fiato sospeso Nella puntata di domani, mercoledì 23 ottobre, nuovi colpi di scena attendono i fan della serie Uno dei temi centrali della puntata di domani di Endless Love, dopo quella odierna, sarà la preoccupazione di Asu Quest'ultima è tormentata dal pensiero che Emir possa venire a conoscenza del suo coinvolgimento nella manomissione dell'automobile di Nihan La donna è consapevole del pericolo che corre. Se l'imprenditore scoprirà che è stata lei a sabotare l'auto della sua amata, la sua posizione sarà gravemente compromessa Questo timore la spinge a rivolgersi a Tufan, il suo complice di sempre, per chiedergli un favore cruciale, non rivelare a nessuno ciò che ha scoperto Tufan è un personaggio enigmatico, spesso diviso tra la lealtà e i suoi personali interessi La richiesta di Asu non sarà priva di tensioni, e la domanda che alleggerà tra i fan è, sarà disposto l'uomo a coprirla ancora una volta o cederà sotto la pressione? Le sorti della donna dipendono dal suo silenzio, e questo crea una tensione crescente che terrà i telespettatori con il fiato sospeso Nel frattempo, Nian sta affrontando un momento critico per la sua salute Dopo l'incidente causato dalla manomissione della sua auto, viene sottoposta a un delicato intervento chirurgico Per fortuna, la procedura si conclude con successo e la Sezin viene trasferita in terapia intensiva, dove rimarrà sotto stretta osservazione per le prossime ore Endless Love. Anticipazioni di domani. Cosa succede nella sopopera mercoledì 23 ottobre 2024 Il legame tra Kemal e Nian, è il cuore pulsante della serie, e anche in questo momento di grande difficoltà, il soidere dimostra il suo amore e la sua determinazione Nonostante gli venga vietato l'accesso alla terapia intensiva e per questo è disperato, l'ingegnere non abbandona l'ospedale e trascorre due giorni interi lì, incapace di lasciare la Sezin Il suo amore per lei è evidente, e il pubblico non potrà che emozionarsi nel vedere la sua dedizione, anche quando è costretto a restare lontano da lei fisicamente Finalmente, dopo giorni di tensione, arriva la notizia tanto attesa. Nian è fuori pericolo Viene trasferita dal reparto di terapia intensiva a uno meno sorvegliato, permettendo finalmente a chi le sta vicino di farle visita Ed è qui che entra in gioco l'ingegno di Kemal. Determinato a vedere la pittrice, nonostante gli ostacoli, si affida all'aiuto di Zeir e Vildan per riuscire ad entrare nella sua stanza Grazie alla loro complicità, l'uomo riesce finalmente a raggiungere la sua amata, in un momento che si preannuncia carico di emozione e dolcezza Ma sarà davvero così? Bisognerà attendere giovedì per scoprirlo? Intanto, la puntata di mercoledì 23 ottobre sarà piena di tensioni, segreti e romanticismo I fan di Endless Love non vorranno perdersi neanche un minuto, con Asu in bilico tra la paura di essere scoperta e l'ansia di Kemal di poter stare accanto a Nian Le emozioni continueranno a travolgere i protagonisti, promettendo di tenere tutti incollati allo schermo fino all'ultimo minuto